Un nuovo a Feltia, solidissimo e coriaceo, conquista la seconda vittoria su due, essandosi in vetta alla classifica del Girone H di prima categoria. Sotto una pioggia a tratti battenti, i giallobru hanno offerto una prestazione di grande sostanza, confermando grandi progressi sul piano difensivo. I 180 minuti non hanno ancora subito gol e nella partita odiena con i Granata, Semprini non si è dovuto neppure sporcare i guanti. Al momento sono 5 le partite ufficiali, considerando anche la Coppa Emilia, con all'attivo 3 vittorie e 2 pareggi. La gara non è stata certamente spettacolare tra due compagini ben messi in campo, ma ha premiato l'undici che ha più creduto nella vittoria. Subito un nuovo affetto in attacco, al primo minuto Fragoni sulla sinistra, profondità per Radici che da posizione defilata in aria cerca il tiro cross, palla di poco alta. Al minuto 7, Stefanelli da posizione defilata prova la gran botta, ma il tiro, in verità la camomilla, è fuori misura. Il Granata risponde al 14esimo con un tiro di poco al lato di Mastria. Bravo, il centrocampista ex Villa Alta vince a un ripaglio e a cercare di sorprendere l'attento Semprini. Alla mezz'ora Radici allarga a destra Federico Baldenini, poi sul passato di ritorno di quest'ultimo l'attaccante calcia a botta sicura, trovando la respinta di un difensore avversario. Squadra a riposo sullo 0-0. Nella ripresa, al 53esimo, Gori cerca un tiro improvviso dalla distanza, da posizione piuttosto decentrata. In destro viene respinto saggiamente con i pugni da Castagnoli. Lo stesso centrocampista, servito questa volta da Radici, prova un raso terra velenoso che crea più di qualche brivido alla porta difesa da Castagnoli. Al 58esimo Mastria va via velocità da un avversario e cerca il pallonetto vincente dalla lunga distanza, vedendo la posizione di Semprini piuttosto alta. La palla termina però abbondantemente fuori. Due minuti dopo, punizione a sinistra di Lorenzo Fraboni, un corner corto in verità raso terra per Stefanelli, che si smarca bene ma tutto solo calcia alle stelle. Al 70esimo Bettini neo entrato allarga sempre per Stefanelli, che riprova il tiro da posizione decentrata, Castagnoli brocca questa volta senza difficoltà. Ci prova anche Rinaldi direttamente da calcio piazzato, senza inquadrare il bersaglio. Il risultato di parità sembra scritto, ma al 90esimo Amantini si allarga e mette al centro un pallone velenoso, un imbalzo in gana alla difesa, Stefanelli spunta rapidissimo da dietro sul secondo palo e di testa beffa Castagnoli. 1-0 è seconda marcatura in stagione per il nazionale sanmarinese, che va a festeggiare la rete con il suo pubblico. Termina qui una gara dalle poche emozioni, complice anche un terreno pesante, ma che permette a Nuova Feltia di sognare e di rimanere in testa la classifica seppur appaiato per almeno un'altra settimana.